Io presento subito Giovanni per chi non lo conoscesse, Giovanni è il fondatore di Artigiani Digitali, è un grande esperto di digital fabrication, ha scritto un libro su community management, è un riparatore di orologi, di piazza, ma nel mio cuore Giovanni è sempre il maker che ho incontrato alla Maker Faire, con il suo sorriso così caloroso allo stand della Roland. Io ti lascerei la parola, vedo che già hai condiviso le slide, ricordo a tutti di fare le domande nella chat, così io dopo i 20 minuti di talk potrò farle direttamente a Giovanni. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie a te Mara, spero di rientrare nei tempi, comunque andrò veloce dai, tanto gli argomenti sono interessanti e li abbiamo pure sentiti da altri. Sapete quando si prende una barretta di diapason e la si fa vibrare e andate ad avvicinare un'altra barretta di diapason, quest'altra inizierà a vibrare, praticamente assorbendo quelle vibrazioni e nuovamente rilasciando vibrazioni. Questo è un fenomeno fisico, ma quello che mi è piaciuto e che voglio condividere con voi è che penso che sia un fenomeno pure umano, ossia ci sono delle situazioni che generano delle risonanze empatiche. Quindi nella storia il 4 febbraio del 2003 ho messo la data perché l'anno prima della nascita di Facebook ho creato la community degli artigiani tecnologici. Capite che non era un problema di piattaforma, bensì di creare un qualcosa sul quale portare le persone a condividere delle esperienze. È una community di pratica, continua ad essere in vita tuttora con le sue evoluzioni, come hanno parlato poco fa sull'evoluzione delle community. C'è un forum di discussione che continua ad essere attivo, ma più che altro i punti di contatto, gli incontri, i seminari, sono i momenti quelli fighi, belli, quelli che fanno le community. Proprio ieri ero a Verona in un altro degli incontri, fatto così di nascosto, perché in questo periodo non è che sia tanto giusto farlo. Bene, quello che voglio raccontarvi invece nasce in un momento di non lavoro, vale a dire ero appena rientrato dall'America, arrivo nel mio paesino giù in Sicilia, si chiama Cate, e mentre che eravamo seduti lì nella veranda di mia madre a sorseggiare una granita, a un certo punto dico, guarda mamma mia che tardi, sono le due di notte. Loro dicono, no, guarda non sono le due, sono le undici, è l'orologio che si è fermato. Dico, come si è fermato l'orologio? Sì, 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 guarda, l'orologio è fermo, si è rotto. Ora, quello che è successo è che io ero appena rientrato dall'AMT, quindi dove avevamo fatto un evento sempre con quei maker che diceva Mara prima, dove, figuratevi, nell'arco di una giornata, questo è un'altra community spettacolare, il sabato mattina uno si inventa e dice perché non facciamo un sottomarino e la domenica mattina il sottomarino era già in acqua pronto ad essere varato. Sottomarino vero, eh, con tanto di controlli, di Arduino che controllava la propulsione, cioè uno spettacolo. Ecco, io arrivavo nel paese, giù in Sicilia, con questa energia. Ecco, questa energia, dico no, bisogna riparare l'orologio. Non vi sto a raccontare tutte le peripezie per arrivare su al campanile, ma credetemi, ne sono state tante perché non mi volevano dare la chiave, non era autorizzato. Cioè, mille storie. Chi diceva che c'erano dei pezzi rotto, ho detto li facciamo, li rifacciamo, non è un problema. Comunque, con tre amici, perché ho lanciato questa sfida la sera su Facebook, tre amici, saliamo su, c'hai ragione Alfredo, in effetti è un bel salto, però è proprio qui il punto chiave. Vale a dire, arriviamo su e mentre che puliamo questo meccanismo spettacolare di inizio secolo, a un certo punto il mio amico Mario dice ma guarda un po' sto pendolo e mette il dito nel pendolo. Tic, tac, l'orologio riparte. Cavolo, nessuno si era preso la briga di salire su a riparare l'orologio. Questa era la parte tremenda, terrificante. E quindi vado via, l'orologio continua a funzionare, lo ripariamo e tre mesi dopo, mentre ero a San Benedetto, normale, tranquillo. Arriceva una telefonata dal paesello. Giovanni, si è fermato l'orologio, guarda, un fulmine probabilmente. Si è fermato, scusa, io che centro, so qui, so mille chilometri di distanza. No, tu l'hai riparato, tu adesso lo ripari nuovamente. E lì il problema, cioè il fulmine poi, capite? Come il ritorno al futuro. Era proprio ritorno al futuro. Cavolo. E lì mi è venuta in mente la storia della pulce. La pulce, sapete, riesce a saltare un metro e mezzo. Ora, se voi la mettete dentro una boccia, sta pulce tenterà di fare il salto lungo da tre metri, però sbatte la testa e quindi inizia a saltare quel pochino finché rimane nel suo zona comfort. Io vedevo il paese come dentro una boccia, messo lì, tutti bloccati, e tutti con la paura di fare più di quello che si poteva fare. E da questo pensiero sono ritornato, l'estate successiva, con un obiettivo ben preciso. Quindi ho fatto la t-shirt Save the Clock Tower, come ritorno al futuro, ci mancherebbe, perché volevo portare a catena il futuro. E ho iniziato a fare una comunicazione anche molto forte, in modo da cercare di stimolare gli animi. Vedete, l'ultima riga, quello sarà l'unico modo per far uscire dall'incandesimo del rincoglionimento, quindi ti senti rincoglionito, e iniziano ad arrivare persone che dicono, sì, ci sto, vai, dai, forza. Iniziano ad essere tanti. Noi sappiamo, nelle community, che ci sono delle dinamiche di partecipazione, i lurkers, i contributori, chi crea contenuti, eccetera, ma a me mi interessava quell'uno, tanto che il resto degli altri, chi parlava di politica, eccetera, li abbiamo eliminati subito, via, tranquillo. Quindi abbiamo creato un bel zoccolo duro con coinvolgimento. Questo proprio perché il fatto di avere una comunità, una community dentro la comunità, è un qualcosa di bellissimo. Cioè, se andavo in giro, io un caffè non l'ho mai pagato, già da prima, però adesso ancora di più. E come ho fatto a coinvolgere più persone? Raccontando il gioco che parlava prima Alfredo, è molto importante. Per esempio, questo post ha avuto una quantità enorme di condivisione e di commenti, dove dicevo, come faremo a far passare un cavo elettrico dalla torre A alla torre B? E qui, guardate, mamma mia, sono arrivata una quantità di idee enormi, spettacolari. La cosa più interessante è stata pure quella dell'autocontribuzione di ciò che abbiamo fatto. Praticamente, quella maglietta che mi ero creata, son maker, quindi in Roland noi abbiamo queste periferiche per fare un po' di tutto, compreso il papione, il gilet, eccetera, la digital fabrication, appunto. Io mi ero fatto la maglietta, ma tutti mi chiedevano la t-shirt. Dico, cavolo, le stampo e quindi t-shirt, via. Ne abbiamo stampate un centinaio, vendute tutte quante, con una cifra irrisoria, 10 euro, giusto per pagarci le spese, perché all'inizio volevamo pagare noi le spese, quindi ci siamo ripagati tutto. E l'altra parte interessante è che anche persone che erano al di fuori di quelli che sono i canali di comunicazione web, riuscivano e volevano contribuire. Chi ci ha portato degli adattatori, avvolgitori, credetemi, un qualcosa di veramente straordinario. Facevo le dirette da sopra la torre, quindi li ho portati sopra la torre, perché ad agosto abbiamo riparato l'orologio completamente e ci siamo rincontrati tutti quanti festeggiando. La t-shirt unisce tantissimo, è verissimo, la t-shirt è da usare sempre. E' uno strumento potente la t-shirt, lo sanno i miei amici artigiani tecnologici che continuano a farle, perché sono loro promotori pure, e ne ho parlato pure nel libro Community Manager, scritto insieme a Osvaldo Danzi, dove in un capitolo parliamo delle social community. Social community che sono molto interessanti. Mi sono accorto che in effetti noi stavamo facendo una social community, come quella di Via Fondazza, diciamo che è una delle prime social community a Bologna, dove si passa dal virtuale al reale al virtuoso. Figuratevi, loro hanno fatto una gara di polpette in un giardinetto dove si spacciava droga, eliminando tutti gli spacciatori, li hanno praticamente destituiti dal loro luogo. Perché? Perché hanno fatto comune, hanno fatto quella community che dà forza, molto, molto forza. E ce ne sono tante di social street, se cercate social street c'è pure una sorta di manifesto, dove chiunque può aderire, logicamente, e creare la propria social street, come quella di Nolo a Milano nel distretto di Nord Loreto, anche qui si incontrano, fanno il ritiro dei prodotti agricoli a chilometro zero, cioè tutta roba bellissima. Quindi, quell'energia che io avevo acquisito all'MIT, probabilmente è servita al Polifactory a Milano per creare quel laboratorio straordinario, è servita agli indiani che erano lì, pure loro all'MIT hanno creato pure loro qualcosa di bello, è servita a me che mi ha dato quella spinta necessaria ad agire, quindi a fare quel passo in più come quello della pulce. Quindi, con gli amici che mi hanno aiutato in prima persona, sono quelli più attivi, Mario e Peppe, col quale abbiamo lavorato fisicamente, ci sono giorni che ho fatto una ventina di volte i gratini per andare su alla torre, praticamente abbiamo coinvolto tutto il paese. E lì c'è stata pure una forma mediatica, il quotidiano, la Sicilia ne ha parlato, cioè questo mi hanno dato pure un premio che è molto carino, interessante perché onorificenza, guardate, per gli esempi e principi, azioni, atti a nobilità racate. Ma questa è bellissima come attività, come azione, il premio Carruba. Quindi da quell'inizio, poi ci siamo rincontrati, il Natale gli ho portato un calendario con tutta la storia di quello che avevamo vissuto, fatta in realtà aumentata, quindi anche qui roba molto carina. Cosa è successo? Iniziano altri gruppi. Inizia Mani in Pasta, un altro gruppo, un'associazione di giovani, che in un'area un pochettino bruttina creano un bellissimo murales. Arriva un altro gruppo, tra l'altro quello al centro, ha la t-shirt, indossa la t-shirt dell'orologio, quindi è Gianni uno del gruppo dell'orologio, dove in quel quartiere, che era anche qui un po' bruttino, lo rimettono a posto, lo corolano e si incontrano lì fuori, fanno le cene, le rustute, quelle sicule che sono divertenti anche per fare gruppo, le villette, gli anziani agricoltori vanno lì a pulire, a sistemare. Un altro gruppo su un'altra aria vanno a creare i gesti per i rifiuti, un altro gruppo prende una chiesetta e la ristaura completamente, un altro gruppo in un'altra zona dove c'era un abbeveratoio, quindi guardate com'era dimenticato, pieno di rovi, cioè incredibile, una zona che dice ma come fai a rimetterla a posto? Ecco, si sono messi là con le ruspe, ma un lavoro in mane, dove il comune non aveva né ora né mai i soldi da destinare per fare questa attività. La decorazione dei muri anti sfondamento, guardate, all'interno della piazza del Belvedere, anche qui fatto da un'altra associazione, un altro gruppo di giovani, gruppi di ecologisti che vanno a mare a fare pulizia in spiaggia, spettacolo, un qualcosa di incredibile. Praticamente tutte queste attività hanno colorato il paese, l'hanno reso vivo, dinamico, le ho contate, sono 12 attività che sono avvenute dopo la partenza, dopo la riparazione dell'orologio. Quindi credo che questa risonanza, questo voler prendersi a carico di un problema sociale locale, e tu inizi con un dono a collegare e incollare tra di loro le persone, questo diventa veramente quello che c'è da fare oggi. Ed è molto semplice, perché ognuno di noi sa dove poter mettere le mani, e sa che una micro azione fatta al giorno può veramente cambiare le cose e avere dei numeri enormi, soprattutto dal punto di vista umano. Ecco, io con questo mio speech a questo bellissimo simposio di community manager, vorrei in qualche maniera dare anche a voi lo stimolo di andare, molti lo fate, lo so che già siete molto attivi socialmente, però guardate una cosa che non va nel vostro paesello, mettetevi a fare, e iniziamo a praticare e condividere piccoli atti di gentilezza per generare rilevanti risonanze positive. Questo è il mio messaggio. Grazie, bellissimo, bellissimo, e anche ho preparato un degno effetto sonoro. Spero che esprima la gioia di tutti, proprio. C'era anche la tromba, ma è meglio toglierla. Allora, se volete fare domande a Giovanni, per favore mettetele nella chat, così avrò modo di leggerle. Io la prima domanda te la voglio fare io, Giovanni, perché è una cosa che mi hai inviato tu in pieno Covid, con Giovanni, ma anche con altri community manager, grazie all'ICM chat abbiamo invitato alcuni community manager a parlarci di come stavano affrontando con lo loro community il Covid, e dopo la chiacchierata, Giovanni ha mandato a tutti i membri questo fantastico libretto, dove io scrivo quotidianamente, e hai il libretto delle mie idee, come vedete è bellissimo. Volevo chiederti qual è l'idea dietro a questo gesto. È semplicemente un dono, Mara, non c'è uno scopo legato a un ambito commerciale. No, no, assolutamente, volevo capire. È un dono. È un po' quello che dicevi prima, no? Fare piccole azioni che uniscono. Piccole azioni, a me, guarda, non cambia niente. Per esempio adesso già avevo in mente di fare per tutti quelli che stiamo partecipando e stiamo seguendo, quindi la community, il community manager, e tutto il database che avrai di quelli che sono sia attivi, che hanno seguito, che sono a sessione e basta, io un portachiavi lo faccio, ma bello personalizzato. Capito? Questo è un regalino che poi non spedirò ad ognuno, non spedirò, questo è un'altra cosa che ci pensavo ieri quando ho finito l'evento, non li voglio spedire, nel senso io li vorrei raccogliere in modo da darli a mano quando ci incontreremo l'anno prossimo. Quando ci incontreremo l'anno prossimo, perciò già ci hai detto che sarai uno dei prossimi ospiti della prossima edizione. Non mi posso mettere, non posso, dai. Siamo felicissimi. Senti, ti faccio un po' di domande, la prima è di Alessio, e invito tutti gli altri a fare domande sul gruppo, aspetta che l'ho persa, eccola. Alessio ti chiede, tu che conosci entrambi, qual è la differenza fondamentale tra una community sociale e una community legata a un'azienda brand? Sì, allora, le dinamiche sono diverse, anche se in qualche maniera hanno delle similitudini, vale a dire, il dono è l'elemento chiave per entrambi e da dove partire. Quindi sia una community di brand, tu in ogni caso, il tuo contenuto, deve essere un dono a prescindere da quello che ti darà la persona che si unirà alla community. Quindi vale per una, vale per l'altra. Su quelle sociali c'è un ambito di relazione diretta che è molto più veloce, cioè ci si incontra molto di più rispetto a una community da brand dove devi creare dei momenti di contatto, oltre, logicamente, quelli online, ma al solito la parte fisica non può e non deve mancare mai perché l'empatia, quella vibrazione che noi riusciamo a percepire anche da un monitor, da una presentazione, da una chiacchierata fatta online, che è un'altra cosa che è un'altra cosa che è un'altra cosa che è un'altra cosa che sia almeno 5-10 volte di più a livello energetico. E siccome bisogna dare questa scossa, è molto importante avere il contatto fisico. Ieri proprio questo mi dicevano mentre eravamo lì a Verona, dice, guarda, è stato bello che siete venuti, la condivisione di questa esperienza perché mi hai ricaricato. Ecco, questa storia della ricarica, in effetti la cosa strana è che sono loro che ricaricano poi alla fine, al contrario. È un diapason. È il diapason, esatto, perché c'è proprio questa autoalimentazione bellissima, straordinaria. È più complessa la community di brand. Enzo prima diceva le problematiche su quello che effettivamente può succedere all'interno della community che succede un po' meno nella social. Ma attenzione, quando abbiamo aggiustato l'orologio e fatto funzionare le campane, c'è stato un gruppo che si è lamentato e è andato dal sindaco dicendo ah, le campane di notte rompono le panni. E il sindaco mi ha chiamato, mi ha detto Giovanni, qua guarda, c'è gente che si lamenta. Dico, ah sì? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'azione forte. Abbiamo spento le campane e fermato l'orologio. Sai perché, Mara? Dimmi, dimmi, perché? Perché abbiamo fatto vedere che le persone negative erano molto, molto meno di quelle che volevano invece la positività di quell'azione. E questo ha funzionato. È stata un'azione dura, molto forte. ci ho fatto una diretta proprio parlando di sta cosa con un linguaggio forte e tutto quanto. Alla fine erano due persone che si lamentavano su una popolazione di 10.000, capito? Assolutamente. Urlano e quindi tu li devi comprare. Alzano la voce. Perché poi le persone negative hanno questa facoltà di alzare la voce che è sorprendente, diciamo, rispetto alle altre invece che ha un tono più moderato. Allora, io ti faccio altre due domande che sono arrivate. La prima è da parte di Manuel Parisi, in una piccola community nonata partiresti subito con una t-shirt o eventualmente in quali condizioni specifiche? No, la t-shirt funziona, nel senso la t-shirt deve avere un messaggio integrato all'interno. Quindi quella della voce aveva Save the Clock Tower quindi già c'era il messaggio integrato, quella degli artigiani tecnologici c'è la mano e il mouse e quindi anche lì c'è un senso di appartenenza. Quindi la t-shirt deve essere legata al senso di appartenenza e a sua volta funziona come senso di appartenenza. Assolutamente sì, t-shirt felt a forever. Ok, poi un'altra domanda da parte di Andrea Gattini. Nella tua esperienza sulle micro community ad Akate la possibilità positività scusate che tu hai avviato è perdurata nel tempo o le community hanno avuto vita breve? Allora ci sono ancora ci sono ancora e stanno agendo stanno facendo delle altre attività è stato anche un modo per farli uscire da quella boccia che avevo accennato prima nel senso che ci sono persone anziane che oggi il fatto di andare a curare il giardinetto l'hanno preso come missione di vita. Capito? È una sorta di ikigai che è arrivato facendo cosa? Semplicemente andando a risolvere una problematica di un quartiere di una zona di un'area comunque stanno continuando a lavorare continuano a nascere micro community questo è molto bello perché c'è anche quell'altro aspetto che sentivo pure nella presentazione non so se da di Enzo di un altro sul fatto di creare una sorta di sfida di gamification di ho fatto la cosa più figa o meno va bene ci sta anzi via dai ok l'ultima domanda da parte proprio di Enzo una bella una bella domanda diciamo la gialletta sei mai stato sul punto di mollare? Allora la prima volta eh sì in effetti su più sulla community quella aziendiale diciamo degli artigiani tecnologici ci sono stati dei momenti duri di attacchi c'è stato stavo parlando per esempio con un mio ex amministratore quindi mi aiutava ad amministrare la community stavo a parlare di un progetto che volevo portare avanti e far nascere e dopo tre giorni lo vedo l'ha fatto lui senza logicamente invitarmi e manco farmi entrare nel gruppo quindi sta cosa sai ti dà fastidio però alla fine la perseveranza anche su questa qui quando la prima volta praticamente l'orologio si è rotto e ti hanno chiamato per dire perché non lo ripari tu lì un po' il il vaffa quasi quasi arrivava però ho detto no io devo ribaltare la cosa e l'ho fatta tramite questa micro community sociale dove oggi è tutta autonoma cioè sono loro stessi che autogestiscono l'orologio quando c'è stato il cambio orario è andato il sabato pomeriggio a cambiare l'orario capite è figa logicamente ogni volta che vado al paese io vado su alla torre mi godo il panorama il suono delle campane da quel punto privilegiato guarda ci sarebbe un'ultimissima domanda e poi passiamo alla sessione finale Fabio ci chiede quali sono gli step per mantenere una community viva quali sono le leve più utili e allora serve come diceva Seth Godin un capo tribù cioè pur essendo la tribù formata da tanti membri in ogni caso il capo tribù deve fare lo sciamano deve essere lì e deve sempre reinventarsi cioè dare contenuti che sono un passetto avanti quello che è la media devi avere sempre la credibilità e logicamente non mollare cioè il discorso di lasciarsi andare o abbassare la guardia è dura sappiamo tutti che in ogni caso le community hanno un'evoluzione quindi su quello che sta succedendo lo faccio lo vivo in prima persona sugli artigiani tecnologici per esempio c'è sono nate diverse community da quella degli artigiani tecnologici tanto per dirne una tra le quelle che mi piace di più c'è una community che decorano i camioncini del modellismo capisci? ma nasce da lì cioè dal fatto che gli elementi vengono fatti in digitale e oggi la community di Max Model è autonoma e lui fare diretti c'è una quantità enorme di proseliti che non fanno altro che divertirsi a decorare modellini di camioncini la passione veramente spinge a fare le cose più incredibili esatto senti Giovanni io ti ringrazio tantissimo a nome di tutti di tutto il team e anche a nome di tutti i partecipanti che sto leggendo i messaggi che vedo in chat vedo proprio che ci sono tanti apprezzamenti perciò magari spendi due minuti per leggerli tutti noi adesso abbiamo la sessione finale in cui faremo un po' tireremo un po' le somme di questa prima giornata e faremo anche un po' di networking so che tu oggi hai il compilano di tua figlia ma magari se vuoi partecipare anche tu ci vediamo nell'ultima sessione perfetto con piacere la mia figlia tra l'altro sai che si è inventata adesso? no si è inventata una video chat su Meet con tutti i familiari in giro per l'Italia quindi anche lei è una community manager assolutamente ci saranno delle nuove figure le community manager dei familiari secondo me è una figura nascosta ma esistono allora per tutti ci vediamo nell'ultima sessione ciao Giovanni ciao ciao a presto grazie ciao